Mia moglie Ciao, sono io Volevo dirvi che ho perso il treno e sono a Venezia E secondo te è una cosa normale che una figlia a chiappa se ne va così? Spero sia di suo gradimento Sempre meglio di un cinese Mi vuole contraddire la signora ma i cinese sono i più grandi ristoratori del mondo Il dottor Barletta non dorme più, non mangia più Io non posso credere che tutto questo ne sia indifferente Ha le mani magiche Basta che mi sfiori e ti metto tutta un po' Ma io non ho fatto niente sono stata dimenticata sopra un autogrip La pregherei di fare le mie spiegazioni più esaurienti La pregherei di fare le mie spiegazioni La pregherei di fare le mie spiegazioni